Ciao, bentornato sul canale di Stats4Bets. Buona Pasquetta in questo lunedì che si presenta subito subito interessante perché domani comincia la Champions. Il turno di Pasqua, Pasquetta diciamo così, il venerdì sabato è stato un turno abbastanza forse complicato potremmo definirlo perché l'Inter ha faticato, ha pareggiato, il Milan ha faticato, ha pareggiato, il Napoli ha faticato riuscendo comunque a vincere, la Roma ha vinto pur faticando, la Lazio ha fatto una grande prestazione ed ha meritatamente vinto anche se c'è diciamo quel piccolo episodio di Milinkovic, Savic su Aleksandro, in altri momenti storici probabilmente avrebbero fischiato fallo tutta la vita, in questo periodo storico forse a Juve non è così portata che quindi subisce anche qualche torto che in altri momenti non avrebbe subito, probabilmente era fallo quello di Milinkovic, però comunque è una grande Lazio, quello che dico non è assolutamente una questione di tifoseria Roma-Lazio, anzi io continuo a dire che mi piace per certi aspetti molto più a Lazio della Roma, non per niente il gol di Zaccagni ma in realtà la giocata che fa Luiz Alberto è qualcosa di spettacolare quindi è stato un bel weekend, difficile con alcuni pronostici difficili da individuare però è stato un buon un buon campo di prova per quello che ci aspetta questa settimana. Insieme a me come sempre c'è il libraccio di metodo Stats4Bets, qualcuno mi ha chiesto informazioni su le nuove felpe, cappelli, ho fatto un po di merchandising ma per ora in totale sincerità non penso di metterle in vendita, l'ho fatto solo per me così per fare video, ormai mi sono messo a fare video su TikTok, su Instagram, quindi metto il cappellino, la felpa, la magliettina ma per ora non penso di venderle. Dicevamo Pasquetta, questa sera finisce l'offerta di Pasqua anche del Superfoglio, quindi fino a mezzanotte c'è ancora l'opportunità di avere l'offerta pasquale ma andiamoci a vedere finalmente queste partite. Devo dire che il weekend di Pasqua dal punto di vista dei pronostici stretti veri e propri è stato un gran weekend perché l'intelligenza artificiale tra venerdì, sabato, la stessa Pasqua credo abbia preso qualcosa come 15 singole su 17, una cosa del genere, più varie multiple, raddoppi, quote 4, quote 5, è stato veramente un weekend pesante da questo punto di vista, molto molto positivo. Allora Champions League, già domani c'è Benfica Inter e Manchester City, Bayern Monaco, poi Real Madrid Chelsea e Milan Napoli il giorno dopo, mercoledì. Quindi subito facciamo il botto. Vediamo poi se c'è qualcosa di interessante anche per l'Europa League. L'Europa League ha i quarti di finale, che tutto sommato vi dirò, quarti di finale potremmo già quasi quasi cominciare a studiarci anche quest'Europa League. Magari farò un video, l'Europa League si gioca giovedì il 13, quindi magari farò un video intorno al martedì o mercoledì perché adesso finalmente si entra nell'ottica di partite un pochino più interessanti da studiare. Vediamo anche la Conference. Conference sempre di giovedì, però onestamente no. La Conference è ancora un po' presto per studiarla. Gent, West Ham, Lech, Pozzan, Fiorentina, Anderlecht, AZ, Kmar e Basilea, Nizza. Insomma diciamo che la Conference ancora gli diamo un altro turno, magari la vediamo o nelle semifinali o nelle finali. Comunque cominciamo questa Champions. Non so come vogliamo farla, se fare solo le due di domani e poi domani, le due di dopodomani, oppure se affrontare prima le italiane e poi le straniere. Comunque andiamoci a vedere prima il City e lasciamoci l'Inter. Qui, ragazzi, partita veramente tosta da prevedere perché ci abbiamo due super corazzate. Il Bayern Monaco in questa stagione sta avendo qualche difficoltà in più, qualche difficoltà in più anche un po' inaspettata. Quindi la palla va un pochino verso il City, le statistiche e il flashback non sono altissime perché comunque parliamo di 53 e 8 e 54, quindi credo che sia coerente quello che ci fa vedere lui. Il possibile 1 vi ricordo che è l'unica valutazione che lui fa che ha una doppia valenza. Se voi cliccate sopra, vedete che cambia il colore, se cliccate sopra vi porta nell'articolo che spiega tutto. Possibile 1 cosa significa? Significa che se vogliamo essere più aggressivi andiamo sull'1 secco, se vogliamo essere più cautelati andiamo sull'esito, doppia chance, quindi 1x. Per me è una partita in cui vedremo sicuramente almeno due gol. Penso che da queste due squadre se non ci aspettiamo almeno due gol sarebbe veramente clamoroso. Non rischierei l'over 2.5, la statistica è appena proprio... sapete che per me sull'under over e il gol no gol la statistica comincia a favorire il segno, quindi l'over 2.5 a partire dal 57% in su. Quindi 57.1 è proprio il limite massimo da cui cominciare. Perciò non spingerei sull'over e anche se il flashback invece va più sull'over, va al 60%, quindi in maniera più decisa, preferisco, vista anche l'importanza del match, tenermi sui due gol. Ecco, questo può essere anche il flashback se avete bisogno di approfondirlo, eccolo qua, cliccate qui e vi porta nell'articolo che lo spiega, idem per lo status, insomma qualunque delle cose che abbiamo ideato trova facile spiegazione cliccando. Però dicevo, il flashback è ben direzionato sull'over, 60%, anche perché a 1.62 è anche una quota interessante, però si livella con questa quota, con questa statistica 57, io per come gioco io farei 1x over 1.5, per come gioco io. Se si vuole essere più aggressivi, secondo me si può a quel punto andare sull'over più che sull'1 secco, perché comunque il Bayern non credo che sia facile da battere, però per me il pronostico di questa è proprio 1x over 1.5 è la visione complessiva perfetta per me su questa partita. Andiamo poi a vederci, abbiamo detto, ma io farei due video separati, farei due video separati perché comunque oggi è lunedì e almeno diamo tempo domani alle quote di muoversi e di analizzare meglio Milan-Napoli che è sicuramente la partita più interessante, quindi adesso ci vediamo Benfica-Inter e poi nel video di domani ci analizzeremo Real Madrid-Celsi e in particolar modo Milan-Napoli. Benfica-Inter, allora all'Inter probabilmente questa partita se l'è veramente andata a complicare nel tempo, quando è stata selezionata, quando è stata estratta il Benfica probabilmente un po' tutti a Milano erano contenti, ma da quando è successo che c'è stato il sorteggio, ad oggi l'Inter ha talmente rovinato la sua stagione, la propria stagione, che il Benfica in questo momento diventa un ostacolo e neanche da dover sottovalutare. Le statistiche non sono ovviamente molto alte, c'è un grosso equilibrio, la quota è piuttosto alta perché comunque va sul 2,10, quindi da queste valutazioni non è che escludiamo necessariamente per forza tutti i costi e infatti ci sta pure qui la possibilità che l'Inter faccia il risultato, perché probabilmente se andiamo a vedere le rose giocatore per giocatore, teoricamente l'Inter dovrebbe avere qualcosina in più. Però due risultati su tre si confermano a questo leggero favore del Benfica, partita da cui non ci si aspettano molti gol, anche perché in effetti l'Inter in questo momento non ha un gioco neanche così spettacolare che ci possa far indirizzare. Sul gol no gol, ecco questo potrebbe essere interessante, perché mentre il flashback interessante ma anche utile a farci capire la difficoltà, perché il flashback al 53,3 va sul gol, mentre le probabilità del campo anche in virtù di quella che è stata dalla stagione finora in corso, ci danno 52% sul no gol. Quindi è un po' ambigua come cosa, quindi sul gol no gol probabilmente non abbiamo grosse indicazioni, andiamo a vedere se ce l'abbiamo sull'underover, 1,67, 57,8, quindi ritorniamo al discorso che ho fatto per la partita precedente, stiamo nel range minimo, 57 in su, quindi si comincia adesso a valutare il 2,5 e addirittura il flashback neanche rientra in quella percentuale perché sta a 56,5, quindi trovo coerente quello che lui mi suggerisca del multigol 1,3, perché potrebbe essere anche una partita in cui magari ci scappa il terzo gol, quindi non è una partita su cui andrai a giocare l'under 2,5, eventualmente potrai giocare l'under 3,5 abbinandolo proprio alla 1x, quindi questa potrebbe essere una 1x under 3,5. Partite entrambe complicate, sia questa che è quella del City, se dovessi scegliere tra una delle due su quale andare a fare una giocata, beh allora dovrai scegliere più il City, perché l'Inter in questo momento è veramente illegibile, difficile da valutare per l'incapacità che ha mostrato, cioè va a recuperare magari anche con grinta e con la giusta motivazione il risultato a Torino e poi allo stesso tempo lo va a perdere mangiandosi 20 gol con la Serenitana, è un Inter veramente in questo momento difficile da inquadrare perché comunque probabilmente si sta valutando il fatto che Simone Inzaki non sarà confermato, gran parte dei giocatori importanti non saranno confermati, c'è un po' quello sfilacciamento che adesso se Inzaki avesse realmente le retini dovrebbe cercare di dire ok ragazzi pure che ce ne andiamo tutti cerchiamo di portare a casa qualcosa di importante in questa stagione, quindi l'Inter in questo momento è difficile da leggere per questo motivo, però per me andando a riassumere, su questa, sul City possiamo avere una 1 o X over 1.5 o un 1 secco o l'over 2.5, questa è la visione del City, sul Benfica io andrei in maniera più cautelata perché mi sembra più difficile da analizzare, 1 X under 3.5, in alternativa un multigol 1-3 perché almeno un gol da una partita del genere io me lo aspetto e me lo aspetterei più facilmente dal Benfica proprio perché comunque deve sfruttare il fattore casalingo per questo primo match e per avere chance poi di andare avanti a Milano. per questo primo video di Champions è tutto, io torno al barbecue di Pasquetta, vi auguro una buona giornata, una giornata di festa, vi rinnovo i miei auguri per una buona Pasqua, ci vediamo domani per analizzare le altre due partite, Real Madrid-Celsea e Milan-Napoli soprattutto che è probabilmente tra le quattro la partita che potrebbe essere anche più interessante per noi. Ci vediamo domani, buona Pasquetta!